E' il riconoscimento del lavoro proficuo di mesi in settori della società civile ed anche in alleanza con esponenti del PD. Il commissario del Partito Democratico Pino Soriero non ci sta a parlare di una vera e propria sconfitta e commenta così la vittoria di Tommaso Sonni alle urne delle primarie. Il riferimento è a quell'ala dei Democrat che già da tempo si erano distaccati dal partito dichiarando apertamente con una nota stampa il loro sostegno al medico Lametino. A Sonni toccherà ora il gravoso compito di compattare attorno a sé anche PDSL, ha spiegato il commissario, che con questa dichiarazione sembra avere dimenticato che il partito di Vendola ha più volte manifestato il suo appoggio a Rosario Piccioni. Ma non è da escludere che non si tratti di una dimenticanza. Per il segretario regionale Ernesto Magorno, a Sonni non mancherà il sostegno del partito, affermando poi Andiamo avanti, consapevoli di essere una forza politica matura e responsabile, capace di confrontarsi attraverso lo strumento democratico delle primarie e parte determinante di una coalizione di centrosinistra unita che anche alla Mezzia vuole confermarsi come forza capace di buon governo e di cambiamento di governo.